Si vede? Sì, perfetto! Bello ragazzi, qui Didd oggi, non è sabato, ma arriva un vlog, un vlog particolare perché uno, devo parlare piano, perché i miei dormono, quindi devo parlare piano, e due, perché appunto è particolare perché non è nel solito giorno, ma si ritorna alle origini perché lì, voi non la potete vedere, ma ho la scaletta! Allora, come ai vecchi tempi ragazzi, ho la scaletta! Allora, sto facendo quest'altro vlog perché vi devo dire delle cose importanti, però ve le devo dire subito, nel senso non posso aspettare l'altro sabato, quindi eccole qua! Allora, sono tante, quindi incomincio subito. Grazie mille per tutto, tutto, tutto quello che avete scritto sul vlog di sabato. Davvero, mi avete dimostrato un affetto e un calore senza uguali, e io vi ho voluto ringraziare cercando il più possibile di, diciamo, tornare, di far tornare il canale come era un tempo, e quindi happy wheels, e quindi serie fisse senza tagli, e quindi sempre più delirio e cazzate dentro i video, ed è una cosa che avete apprezzato tanto, guardate se non guardo, ma perché sto guardando sia la scaletta sia i video. Ad esempio, il video di ieri di happy wheels è andato stra bene, il video, il primo video di Silent Hill ha superato i mille like, i millecento like, quindi davvero, grazie mille. Per non parlare del vlog che è arrivato a otto mila visite e duemila like, grazie mille. Per non contare i quattrocento bellissimi commenti che avete scritto, quattrocento diciassette a essere esatti. Grazie mille, grazie veramente per tutto. Vorrei stare qui a parlarvene un sacco, ma non posso perché ho tanta roba di cui parlare, e voglio che questo vlog non sia troppo lungo, così che non siate scoraggiati nel vederlo, perché se vedete un vlog di un quarto d'ora dite che palle non lo voglio, quindi dato che sentiate quello che voglio dire, passo subito ad altro. Grazie mille, quindi per i commenti stupendi, grazie mille per quelli che sono entrati nel gruppo della Dido Family, perché quel gruppo sta diventando qualcosa di incredibile, è incredibile. Continuate a mandare dentro il gruppo fanart, screen dei video, battute, meme su di me o sul canale, vi conoscete, nel senso vedo un sacco di post tipo, domanda del giorno, qualcuno, tizio A che chiede, domanda del giorno, qual è il vostro sport preferito? E tutti che si rispondono, che si conoscono, si fanno battute fra loro, pure gente che dice A che ora c'è la live? E un altro che dice Alle 21.30, è esattamente questo quello che volevo, che ci comportassimo come una famiglia, e porca puttana, siamo più di 800 membri e ci stiamo, vi state, perché io vi osservo e gioisco un sacco, comportando nella maniera perfetta, esattamente come volevo che funzionasse il gruppo, quindi grazie, davvero grazie. Devo subito passare all'altro, Silent Hill, Silent Hill è stata stoppata ieri, come avete visto il video, non è stavolta, non è colpa mia, perché quel gioco di merda è buggato ovunque, e poi a parte quello, già molti di voi avevano storto il naso perché era buggato, e a parte questo, è copyrighttato, cioè c'è il copyright su qualunque cosa, i video hanno il copyright, pezzetti di gameplay hanno il copyright, ha tutto copyright, quindi dovrei tagliare ogni cosa, ogni video, e un let's play senza la trama non ha senso, quindi purtroppo devo stopparlo, ma, e qui passiamo all'ultimo punto, avremo adesso degli altri let's play attivi, i let's play attivi sul canale, quindi senza contare magari i video occasionali in più di Super Meat Boy, eh sì, Super Meat Boy, cazzo dico, di The Binding of Isaac, di Happy Wheels, a parte questi, ripeto, scusate se parlo piano, ma perché i miei dormono, quindi non possono, scusate, ed è mezzanotte e mezza, quindi sono costretto a fare il video adesso, se voglio farvelo vedere martedì, oggi infatti è mezzanotte e mezza delle 25, cioè, è la mezzanotte del, vabbè, avete capito, è la notte scorsa, è la notte di, avete capito, ok? E quindi ci saranno delle serie attive, le serie attive, quindi a parte Happy Wheels, episodi occasionali di Binding of Isaac, che saranno quindi dei video in più, le serie attive saranno Frambau, che è una serie che sta avendo un grande successo, perché è un gioco strabello e vi sta apprendendo davvero tanto, quindi Frambau, assolutamente sì, poi ci sarà Life is Strange, che mi state chiedendo da tantissimo tempo, anch'io ho annunciato da un sacco di tempo in alcuni video, ne ho parlato in live un sacco, e incomincerà da, vabbè, a breve, non so se già domani, però magari dopo domani, dopo dopo domani, direi che si può fare, e un Rage Game, perché molti ho visto che sul gruppo parlavano di quanto era bello Unfair Mario, Super Meat Boy, e quindi ho deciso di portare un Rage Game, un Rage Game di quelli belli lunghi, con la trama, come Super Meat Boy, secondo me è molto meglio di Super Meat Boy, è anche più lungo, non vi sto a dire il nome, lo vedrete quando sarà caricato, non so se oggi stesso, oppure domani, comunque, grazie mille per l'attenzione, io vi volevo dire queste cose che sono molto importanti, vi ripeto, di iscrivervi al canale di Twitch, in descrizione, di entrare nel gruppo di Facebook, che è sempre in descrizione, e le live su Twitch sono ogni giorno, tranne il sabato e la domenica, se ci sono anche dei giorni in cui non le faccio, che non sono sabato e domenica, vi avviso sul gruppo, le live sono quindi ogni giorno alle 21.30, sul canale Twitch, che trovate appunto in descrizione, grazie mille per l'ascolto ragazzi, e ci sentiamo, vediamo nel prossimo video, qualunque cosa sarà, ciao!